Ciao a tutti ragazzi, sono carati benvenuti in questo video Raga, questo qui è lo speciale dei 200 iscritti E parliamo di me Senz'altro parto con le promesse Voglio cambiare anche tipologia di video Cioè la schedetta l'ho fatta e manteremo quello Però vorrei fare dei video un po' più lunghi rispetto al solito Invece di farli durare 6-7 minuti Magari dai 10 minuti in su Quindi cercherò anche un po' più di dialogo nel video Comunque partiamo da me Visto che voi vi dovevate conoscere E quindi ho detto facciamolo adesso Che siamo all'inizio piuttosto che magari Quando arriveremo magari che ne so Ai 1000 iscritti, ai 2000 e così via Invece io vi parlo adesso E poi magari tra qualche anno Gli faremo un video del genere Dove magari si sono cambiate delle cose Comunque, da come avete capito il titolo Ho scelto Mi chiamo Luca Giunta Go per Red Ho scelto di mettere Red vicino a Luca Per cui ho i capelli rossi Ho 23 anni Nato il 2 agosto 2001 A Roma Che dire La mia vita Da bambino È stata abbastanza difficile Non lo nascondo A scuola andavo anche abbastanza bene Comunque Nonostante tutte le difficoltà che c'avevo Ho visto sempre a Roma Comunque Ho viaggiato anche abbastanza Come avete capito Tipo Roma Anche nei video Da bambino però non ero così Ero Tipo per chi vinceva Poi però A un certo punto Si decide La squadra La squadra La di fare E io ho scelto Roma La squadra della mia città Che dire Beh il mio cambiante preferito È ultimo Poi Mentre la serie La mia serie tv È mare fuori Anche se ci sono altre serie Una serie Che sto guardando ora Che mi piace abbastanza È la metto in top 3 E niente A caso Ho tre animali Una gatta che sta lì Mi sa Sto fermando Proprio ora Mentre sto registrando Poi Un altro gattino E Una cagnolina La gatta che ho qua Si chiama Ketty La cagnolina Dolly E Il gatto Sberulino E Niente Questo qui lo facciamo Durare sempre Qualcuno di video Poi magari tra qualche anno Lo rifaremo Magari quando Parleremo ancora di più Che dire Quanto è comunque Iscrivervi Perché siamo I 200 L'hanno raggiunto ieri Ma Bisogna Sperare sempre di più Non costa nulla Non mi cambia tantissimo Magari cercheremo Di Appunto Come dicevo nei video Di parlare un po' di più E niente raga Bene Grazie ancora Infinite dei 200 iscritti Ma Mi raccomando Se che ci sono Predico Ciao raga Mi raccomando Mi raccomando